Ciao ragazzi, come state? Io sto benissimo, sono felicissima di fare questo video perché vi devo annunciare una cosa importantissima e innanzitutto mi scuso per la mia assenza un po' dei social network, un po' anche nel pubblicare video, solo che chi mi segue sa che sono stata presissima tra Golden League Assoluti e Novara e sono state le tre gare in previsione della partenza per Glasgow, che sono i mondiali, io non vedo l'ora di gareggiare partiremo questo sabato e sabato scorso abbiamo finalmente concluso le gare premondiali con la Novara Cup che è andata benissimo, siamo arrivate seconde dietro la Romania con l'Italia di un soffio e io sono arrivata seconde all'around dietro la risa di Yordace che per me è tipo un mito io la adoro, ma oggi sono qui per annunciarvi la Freelius Surprise e con quindi vi annuncio che il 5 novembre troverete in tutte le librerie by Fabre Editori il mio terzo libro intitolato Scarlotto Style ed è un progetto a cui lavoro da un bel po' di mesi e sono contentissima perché è veramente venuto bene, ovviamente modestia, no sono davvero contentissima perché è un progetto a cui lavoro da tanto ed è assolutamente inedito quindi niente che avete già visto sui social network e niente quindi vi aspetto il 5 novembre in libreria, mi siete mancati, non vedo l'ora di riprendere anche a girare i video, non vedo l'ora di gareggiare, vi voglio bene, ciao!